e bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono ragazzi allora ragazzi in questo video parleremo di come ottenere vbucks gratis ragazzi allora in teoria per ottenere vbucks ci sarebbe solo un motivo acquistarli dal negozio di vbucks però ragazzi è ovvio volevo parlare di questo argomento non fatevi trollare dalle truffe online ragazzuoli quando vedete tipo vbucks generator non accettate mai perché loro esempio vi chiedo di mettere vostri email e nome in realtà ho fatto una prova se mettete un nome a caso un email a caso vi trova lo stesso un account a casissimo quindi ragazzi è tutto fatto apposta appunto per truffarvi ragazzuoli in modo che loro prendono i vostri mail e vi danneggiano l'account e ve lo hackerano ragazzi i modi per ottenere vbucks gratis ragazzi sono pochi o appunto farsi regalare skin in tal caso vabbè ragazzi è proprio ottenere vbucks oppure è avere salva il mondo ragazzi salva il mondo appunto è una modalità che ti permette di svolgere missioni che adesso c'è anche lo sconto sì che adesso c'è anche lo sconto del 50 per cento per natale ragazzuoli qua appunto io non ce l'ho ancora però c'è salva il mondo standard e salva il mondo deluxe ragazzi semplicemente per me io avrei preferito salva il mondo standard diciamo che costa 20 euro però il deluxe costa 10 euro in più secondo me è la stessa cosa ragazzi però non so ancora bene però penso che ti dia appunto delle cose in più vabbè questo è il deluxe appunto ti da anche armi in più anche perché salva il mondo non lo conosco bene comunque ragazzi sì diciamo che il pacchetto fondatore ti dà di meno del pacchetto deluxe ragazzi comunque lax tira molte più skin oltre skin vabbè non pensi che ti dia tutte le skin però comunque allora ti da la pistola fondatore 10 con il standard molto alto ancora accesso alla campagna e vabbè ragazzi comunque usano questo semplice mondo spendendo solo 20 euro facendo tutte le missioni che vi richiede il gioco magari 100 zombie non lo so potete appunto raccogliere 75 50 v bucks alla volta ragazzi questo qua è un metodo migliore rispetto ai generatori di v bucks ai generatori di minti quelle cose da che sono tutte false ragazzi mi è capitato che mi stavano per creare l'account quando avevo usato una volta quel sito e appunto ti chiedeva pure la password ragazzi poi da lì va bene mi son fermato e ho fatto diciamo la protezione del mio account ragazzoni quindi ragazzi per questo video è tutto ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione volevo solo informarvi di questa piccola cosa ragazzoni quindi vi ricordo non usate mai siti di v bucks gratis utilizzate piuttosto salva il mondo ragazzi allora ragazzi adesso andiamo nello shop oggetti di fortnite e vi passo un attimo mio fratello ok bella raga ciao raga allora adesso andremo a fare una cosa nel negozio oggetti andiamo a shoppare qualcosa di fighissimo che è uscito nella season 7 mi sembra penso di sì ragazzi però prima di shoppare usate il supporto accretario e social tettino matrottino yt maiuscolo e minuscolo è uguale ragazzi schiacciate su accetta e per esempio andate a prendere qualcosa da tipo questo raga il sound raga bellissimo gg raga bellissimo è fighissimo comunque raga adesso vi passo a mio fratello con questa bel sound quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto accompagnato da questa canzoncina ragazzi mani io l'ho preso solo per la canzone e da plan insieme mi fa veramente cacca e poi però l'ho preso solo la canzone perché il dettavano fa veramente cacca e allora ragazzi family friend per sempre ragazzi quindi se vi è piaciuto questo video vi ricordo lasciare un bel like una iscrizione ragazzi scontato poi ragazzi vi ricordo di shoppare tutto con il supporto del social tettino matrottino sia ad esempio orgeria ci sta beh vai coi bassi madonna bordello bellissimo papamparo no ragazzi magnifico poi oh questo qua non ho visto mai questa ombra però penso sia di questo set penso eh si di lei esamino oggetti si questo set ragazzuoli ragazzi non vi sto a far vedere tutto il negozio oggetti perché ovviamente piccone bellissimo mamma mia magnifico commando dynamo poi set john wick ragazzuoli john wick boys john poi aura e pesce secco e non esce da un botto di tempo ragazzi vi ricordo non usate mai i siti di vbucks generator ma usate sempre salva il mondo ragazzi salva il mondo per ottenere vbucks gratis vabbè ragazzi se questo video vi è piaciuto di nuovo lasciate un bel like iscrizione e noi ci diamo